ciao sono il dottor max in questo video che spiego cosa posso fare per migliorare la mia concentrazione migliorare la concentrazione richiede pratica e l'adozione di buone abitudini quotidiane ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a rafforzare la tua concentrazione riposo adeguato assicurati di dormire a sufficienza il sonno è fondamentale per il funzionamento ottimale del cervello e per la concentrazione cerca di dormire tra le 7 e le 9 ore a notte a seconda delle tue esigenze individuali alimentazione equilibrata mantieni una dieta sana ed equilibrata alcuni nutrienti come gli acidi grassi omega 3 le vitamine b l'antiossidante presente in frutta e verdura possono contribuire alla salute cerebrale idratazione bevi a sufficienza la disidratazione può influenzare negativamente la concentrazione assicurati di bere abbastanza acqua durante il giorno gestione dello stress lo stress può interferire con la concentrazione impara tecniche di gestione dello stress come la meditazione la respirazione profonda o lo yoga per aiutarti a mantenere la calma esercizio fisico l'attività fisica regolare migliora la circolazione sanguigna al cervello il che può aumentare la concentrazione cerca di fare almeno 30 minuti di esercizio moderato al giorno l'organizzazione utilizza strumenti come una lista delle attività o un calendario per tenere traccia dei compiti e delle scadenze organizzare il tuo spazio di lavoro o studio può anche aiutare a evitare distrazioni riposo breve fai delle pause brevi durante le attività che richiedono concentrazione queste pause possono aiutare a rinfrescare la mente ea prevenire l'affaticamento eliminazione delle distrazioni riduce al minimo le distrazioni nell'ambiente in cui stai lavorando o studiando spegni il telefono cellulare disattiva le notifiche sui dispositivi e cerca un luogo tranquillo meditazione e mindfulness pratica la meditazione o la mindfulness per allenare la tua mente a restare concentrata sul momento presente esercizi di concentrazione svolgi esercizi specifici per migliorare la concentrazione come i giochi di memoria i cruciverba gli enigmi limita la multitasking evita di fare troppe cose contemporaneamente la maggior parte delle persone è più efficace quando si concentra su un singolo compito alla volta sana gestione del tempo impara a pianificare le tue attività in modo efficace ea stabilire priorità usa tecniche di gestione del tempo come la tecnica pomodoro per suddividere il lavoro in intervalli concentrati cura della salute mentale prenditi cura della tua salute mentale e cerca aiuto professionale se necessario la depressione l'ansia o altri problemi di salute mentale possono influire sulla concentrazione apprendimento continuo stimola la tua mente continuamente l'apprendimento di nuove abilità o l'approfondimento della conoscenza in un campo specifico può aiutare a mantenere la mente attiva adeguata visione e udito assicurati che la tua vista e la tua udito siano in buone condizioni poiché problemi in questi sensi possono causare difficoltà nella concentrazione ricorda che migliorare la concentrazione richiede tempo e pratica sperimenta diversi approcci e strategie per scoprire cosa funziona meglio per te e cerca di mantenere uno stile di vita equilibrato per sostenere la tua salute mentale e cognitiva grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata